Ecco Ma questo Così imparino a fare le varie gerenze, Eloyce? Mi dispiace Secondo me l'antenato Bevan se lo meritava E cosa avrebbe fatto per meritarsi una sfregge in faccia? Vediamo Ha usurpato la corona della sorella Sheoban Poi ha rubato il suo castello e l'ha uccisa Ma è da un paese orgoglioso di avere uomini che indossano le gonne E ci si aspetterebbe un papiere civita? La leggenda dice che Sheoban si sentì ingiustamente strappata alla vita E volete tornare dall'oltre tomba Il suo desiderio fu esaudito Ma a un prezzo alto Tradita da un uomo fu condannata per sempre A segurne di uccidere gli uomini Unicidio, vendetta e misoginia Capisco perché non c'è sulla brochure Le va una prazza di te mentre aspetta il suo ragazzo? Ah no Perché invece non ci lascia la spanza dei due esibizionisti Visto che chiaramente non gli serve? Stavo scherzando Vado a cercare Dark È abituato ad ammassare il pieno Mi chiedo cosa combinerà con le tue Ma tu per te Ho! Unico! Grazie a tutti.